Le sirene delle ambulanze sono state coperte dalle legittime grida di rabbia di imprenditori e commercianti. Ma oggi, accanto a una crisi economica sempre più devastante, i malati in ospedale non sono spariti. Si fa ancora i conti con la malattia da Covid. A ricordarlo è la testimonianza di Luca Gallo, piacentino di 54 anni, contagiato in questa seconda ondata di pandemia, insieme alla moglie Maria Grazia e alla figlia Viviana. Lì per lì sono rimasto un attimino così sorpreso, perché pensiamo sempre a qualcuno di fianco a noi, che dopo invece quando ti tocca, e nel nostro caso è toccato a tutta la nostra famiglia, abbiamo cercato di stare più isolati possibile per non arreccare danno a nessuno e poi abbiamo cercato in qualche modo di aggrapparci a quelle che sono le informazioni del medico. Gallo parla di una vera e propria odissea, cominciata prima con le cure del medico di famiglia, poi con l'intervento delle USCA a casa e infine con il ricovero di una settimana nel reparto di malattie infettive. Abbiamo aspettato forse un po' troppo a prendere magari dei medicinali che forse magari mi avrebbero evitato di andare in ospedale. Durante il ricovero in ospedale, Gallo ha cercato di continuare a lavorare, grazie alla disponibilità degli infermieri che gli hanno permesso di recuperare il computer portatile. Mi ha aiutato molto comunque a riuscire a proseguire una parte del mio business seduto nel letto dell'ospedale e portato avanti con il smart working quello che è una parte del mio lavoro. Ora il 54 anni ha guarito. Sono contentissimo di essere a casa, il resto poi sia giusta. Ma deve affrontare tutti gli effetti post-covid per nulla semplici. Se io ho perso 10 chili, riprendersi non è così semplice. Sei un po' più negativo a volte, anche se ti sforzi di non essere, io sono solitamente positivo. E guardare quello che succede in giro e quelle che sono le informazioni che ogni giorno alla televisione, quando sei costretto in casa, ti danno un po' di negatività. A volte preferisco girare, parlare d'altro.